Questa legge ZAN è fallita per colpa, responsabilità e scelta del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. E vi racconto perché. È la loro arroganza, unita alla loro incapacità di fare politica, che ha segnato l'esito del DDL ZAN. Parliamoci chiaro, per fare politica servono i voti dei parlamentari, non i like degli influencer. Se vuoi approvare una legge finché c'è questa Costituzione, hai bisogno del consenso della Camera e del Senato. E per avere il consenso della Camera e del Senato non servono le bandierine ideologiche, non serve prendere i mi piace su Facebook o fare i fighetti in televisione. Bisogna prendere uno per uno il voto di chi in Parlamento ci lavora, di chi il Paese rappresenta. È così. Sì, questa si chiama politica. Cercare di avere consenso, magari mandando delle minacce social o lasciando che altri minaccino via social coloro i quali non la pensano, come te non è politica, è populismo della peggiore specie. Allora guardiamo i dati di fatto. Il disegno di legge Zan era un disegno di legge che già dalla scorsa legislatura, allora si chiamava Scalfarotto perché il primo firmatario era Ivan Scalfarotto, è un disegno contro i crimini legati all'omotransofobia. In questa legislatura, dopo che la volta scorsa non era passato perché si era fermata l'approvazione della Camera ma non aveva ottenuto i voti al Senato, sono stati presentati diversi disegni di legge. Uno lo ha fatto Zan, uno ancora Scalfarotto, uno altri. Questi disegni di legge sono stati poi sostanzialmente riuniti in un testo a prima firma Alessandro Zan e su questo testo si è lavorato arrivando all'approvazione della Camera. Quando il passaggio è stato dalla Camera al Senato, sono emersi dei problemi. L'articolo 1, l'articolo 4 e l'articolo 7 vedevano delle discussioni. Essenzialmente il concetto di identità di genere, il concetto di libertà d'espressione, la obbligatorietà di alcune iniziative dentro le scuole. Questi erano i tre punti aperti. Il disegno di legge Zan tentava di rendere più dure le pene verso coloro i quali si rendono responsabili di crimini d'odio. E grazie all'iniziativa molto preziosa dell'onorevole Lisa Noia di Italia Viva, si era allargata la tutela non solo ai reati contro le persone omosessuali, le persone transessuali, ma anche le persone con disabilità. Dunque si era fatto un buon lavoro. Ma sui tre punti in questione, identità di genere, libertà d'espressione e scuola, in Senato non c'era la maggioranza. Ah, il mondo cattolico si è messo contro. Io sono cattolico. E da cattolico ho firmato la legge sulle unioni civili, contro tutto e contro tutti. Il problema non era il mondo cattolico, non era soltanto una parte del mondo cattolico. Larga parte del mondo di sinistra, sull'espressione identità di genere, chiedeva dei correttivi. Ora, cosa fai quando c'hai una norma che non ha i numeri al Senato? Cerchi di fare un accordo. È da maggio che chiediamo di trovare un punto di intesa. A luglio sono stato oggetto di una campagna di aggressione mediatica e social perché ho detto la cosa semplice. Guardate che qui non ci sono i numeri, troviamo un punto d'accordo. E il punto d'accordo era a portata di mano a luglio. Allora PD e 5 Stelle decisero di rinviare la discussione del DDL Zan a dopo le amministrative. Qualcuno disse, vogliamo farci campagna elettorale sopra. Io trovo scandaloso fare campagna sui diritti. Penso che i diritti debbano essere garantiti. Ma certo non a sportellate, facendo le leggi. Perché se io dico garantisco i diritti e lo scrivo su un post, magari aumento i followers. Ma se io anziché scriverlo su un post e lo scrivo in gazzetta ufficiale trovando i voti, aumento i diritti. Questa è la differenza tra i populisti che fanno i post e i riformisti che fanno le leggi. Siccome i numeri non c'erano, ho cercato disperatamente di trovare una soluzione. Finite le amministrative, il segretario del PD, Enrico Lette, è andato da Fazio. Ed è stato molto gentile perché mi ha mandato un messaggino. Mi ha detto guarda che apro nella direzione di un accordo sul DDL Zan, lavoriamoci insieme. E io ho detto giusto, noi ci siamo. Questo accadeva domenica scorsa, 5 giorni fa. A quel punto si è fatto un tavolo di lavoro, martedì, in Senato, pensando di poter trovare un punto di intesa. Sapendo che la destra aveva, certo strumentalmente, messo in votazione una questione pregiudiziale che, ove fosse stata approvata, avrebbe portato alla fine del DDL Zan. Chi conosce le regole del Senato aveva visto questo pericolo. E io personalmente mi ero fatto carico di chiamare tutti per dire guardate ragazzi, o si fa l'accordo prima di mercoledì, o a voto segreto, mercoledì mattina, può succedere di tutto. E noi che ci siamo battuti per evitare il problema, e per evitare il voto segreto, come ha fatto opportunamente il gruppo di Italia Viva al Senato, abbiamo cercato disperatamente di salvare tutto. Niente. Martedì alla riunione al Senato, il relatore Zan, e con lui, il relatore della Camera, e con lui, gli esponenti politici del PD e dei 5 Stelle, hanno detto, questo è il testo, prendere o lasciare, dovete ritirare alla destra la vostra questione pregiudiziale. Anziché cercare di dialogare come si deve fare sui diritti, hanno detto muro contro muro. E domani ciascuno si assume le proprie responsabilità. Ecco, bravi, assumetevi le vostre responsabilità. Con questa scelta suicida avete distrutto il DDL Zan. E quelli che vengono a dire, eh, ma sono stati quelli di Italia Viva, devono rendersi conto che ci sono stati 23 voti di differenza a scrutinio segreto. Il che vuol dire che, considerando da quanto si partiva e dal fatto che alcuni della destra hanno comunque votato a favore dello Zan e contro la questione pregiudiziale, questo significa che ci sono stati almeno 40 franchi diratori. Come da mesi stavo dicendo, inascoltato. Allora, cosa voglio dirvi con questo breve video? La politica non è sputare addosso agli altri. La politica non è mandare i messaggi che sto ricevendo alcuni con minacce di morte. La politica è cercare di trovare le soluzioni. Quando si è trattato di fare la legge sulle unioni civili, per dare a chi si ama, indipendentemente dalle proprie scelte sessuali, la possibilità di dire sì davanti a un pubblico ufficiale, la possibilità di giurarsi amore di fronte alla società, io mi sono preso la responsabilità, io mi sono preso gli insulti, io mi sono preso le contumeglie di tanti mondi diversi. E allora ho avuto chi mi diceva che ero vergognoso perché tradivo l'articolo 29 della Costituzione e mi sono preso le accuse di chi diceva che era troppo poco. Ma far politica significa questo? Fare delle scelte che ti possono costare in termini di voti. Non ho pensato a aumentare i miei follower, non ho pensato a prendere i like, ho pensato al fatto che tante donne, tanti uomini, tante persone potevano andare di fronte al sindaco del proprio paese ed esprimere l'orgoglio e anche gli impegni, la responsabilità del proprio amore. E sono orgoglioso di averlo fatto. Ma quella è diventata una legge. I proclami ideologici di chi, pur di attaccare gli avversari, ha preferito far fallire quella legge perché gliel'avevamo detto che a scrutinio segreto in primis alcuni del PD e alcuni del 5 Stelle avrebbero votato contro le indicazioni di partito. Cosa che è avvenuta, perché se ci sono 40 franchi tiratori è evidente che questo è avvenuto. Loro hanno preferito sventolare la bandierina e aggredire gli avversari che non portare a casa il risultato. Allora, la politica è una cosa seria. I tre punti che si potevano discutere e cambiare avrebbero richiesto 5 minuti per trovare un accordo, 10 minuti, mezza giornata. Avremmo potuto avere già da luglio la legge in vigore. Si è scelto di non farlo in nome di una ideologia, in nome del populismo. Come dieci mesi fa, o Conte o Morte, e si è visto il risultato, oggi gli stessi protagonisti hanno fatto Zanon Morte, e si è visto il risultato. Per fare politica bisogna sapere di che cosa si parla, perché altrimenti siamo tutti populisti o politici da bar dello sport.